Siamo adatto a Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il martedì 31 gennaio. La Chiesa ricorda San Giovanni Bosco, presbitero. Lassiate che i bambini vengono a me, non glielo impedite. A chi è come loro appartiene il Regno di Dio, dice il Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e del Espito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo per la potenza del Espito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio che hai suscitato il presbitero San Giovanni Bosco, come Padre e Maestro dei giovani, concilia anche noi con la stessa fiamma di carità a servizio della Tua gloria, per la salvezza dei fratelli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te in unità dello Espito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprestando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Parola di Dio. Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Sceglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra. Davanti a lui si curveranno quanti dissendono nella polvere. Lo servirà la mia dissendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che ne serà diranno, ecco l'opera del Signore. Alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale come lo vide, gli si gettò i piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opere di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che ti stringi intorno a te e dici che mi ha toccato. E li guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e si guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, forché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, e le disse, Talitakum, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva, infatti, dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Questo santo convito ci sostenga, Dio Onnipotente, perché sull'esempio di San Giovanni Bosco testimoniamo nelle intenzioni e nelle opere la luce della tua verità e l'amore verso i fratelli. per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi per l'intercessione di San Giovanni Bosco vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace bene.